Sono da tavolo. Ho fatto una frutta per asciugare. Ho fatto gli altri nocciolini, nocciolini, nocciolini nere per asciugare le pattelle di farate. Era una cesta. Prima facevo i miei canizzi, chiamati i canizzi, fatte ingerruzzate per terra. Ora io, con l'età che ero, 92 anni, se io mi interroggio, ho un momento, ho chiamato aiuto per finire il margine. 92 anni. Signor Giuseppe, sia dal Caralifusi che a Torrenova, lascia tutti a bocca aperta. Chiunque passa e nota lei ancora con questi antichi mestieri. è un vero piacere vederla. Mi prendono per pazzo. Assolutamente no. Come? Le fanno tutti i complimenti. Non c'è nessuno, né giovani né anziani, che hanno, che hanno, chissà, sull'idea che aveva avuto io da piccolo. L'idea che aveva avuto io da piccolo, ancora cerco di continuarlo, però non ci ho apprezzato. Non ci ho apprezzato. Un lavoro che ho fatto io, io ti passo il tempo. non ci ho apprezzato. Non ci ho apprezzato. Non ci ho apprezzato. che hanno, un tempo che è andato male, i funghi, i bocchini non ne riusciano. Non ci ho apprezzato. Ci stanno per venire lì. Ci stanno quelle che vendono, le barre, le ristorante, dove, dove ci vanno, gli anni congelatori, gli anni e gli anni, per me non ne riusciano. Per me non sono andato. Ci sono tante qualità, tante qualità diverse. Ci sono altri i bocchini, ci stanno altre qualità che sono buone pure. Eh, quindi, per me non ci restano di nessuna qualità. Eh, eh, solo a dinerlo, mi fai, mi fai una mia, mi fai una mia, ti passo il tempo, mi fai una mia, regalata. Se io ci dico, magari, un euro, un euro, scappolo, perché ci fa fatica a prendere un euro, tanto per dire, tanto per dire, un euro. Una cosa che costa, per dire, vale 80, 100 euro, una gesta. Eh, se ci dico, mi scappa da dire, magari 10 euro, 5 euro, sempre fa. La cugina mia, mi ha detto, mi fai due cannezzi, i cannezzi erano che si facevano i canni per terra, in chiaro. quando si prendevano per trasere, in essere, eh, se c'era, notare la brutta che ci aveva, ah, si, le trasevano, a cannezzi, se non mi chiamano, metà te cadevano, le cose che ci erano, dai, mettevano i rocciolini, mettevano i sbagli, che facevano, mettavano camminare, guardate, se mettevano, cascavano. Guarda, questo cesto così, fatto, questo cesto così, lì, io ora ci faccio un bordo qua, fino a qua, così alto, e io appagio, 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 quindi, questo, questo cesto, che ci faccio, eh, cinque, sei giri, di canne, se mette il ciole, se mette qualunque sia cosa, le cannezzi, quindi...